3 chilometri di variante che serviranno ad evitare l'attraversamento della città di Ortona per il nuovo raccordo della ferrovia adriatica o sangritana, un'infrastruttura importantissima presentata stamattina proprio ad Ortona dal presidente Di Nardo. Un esempio concreto di servizio a un insieme di infrastrutture logistiche che potranno far decollare questa zona per quanto riguarda il traffico merci. Esatto, sostanzialmente è un progetto che dovrebbe così eliminare il disagio di quanti oggi ad Ortona subiscono da 100 anni ormai, l'attraversamento neanche più governato da passaggi a livello sia pedonali che carrabili. L'eliminazione di questa infrastruttura che attraversa tutta Ortona consentirà sicuramente nella vallata nella quale è stata progettata questa variante di poter raggiungere meglio la zona industriale di quanto lo si faccia oggi con questo raccordo industriale che dal porto parte e attraversa tutta la città di Ortona e arriva nella zona industriale. Questo consentirà di conseguenza di avere una piattaforma logistica naturale, un retroporto naturale a un'infrastruttura importante come quella del porto di Ortona che è l'unica struttura portuale in Abruzzo che sul molo nord ha il binario. La progettazione è ormai pronta, l'avete curata voi direttamente con Sangritana, ma quali sono i fondi, quali sono i tempi nei quali questo sogno diventerà realtà? All'interno di questo progetto per cercare i finanziamenti ovviamente, oltre alla visita del Presidente Chiodi che ci è stata la settimana scorsa alla quale in anteprima abbiamo presentato il progetto, ha questo progetto una peculiarità, cioè quella di poter essere finanziato in parte, in gran parte dall'alienazione della vecchia stazione di Ortona, nella città di Ortona, anche essa ormai abbandonata da tempo e questo potrebbe essere uno dei motori per il quale si può anche più velocemente arrivare, oltre ad un progetto così presentato questa mattina, anche la sua esecutività. Grazie